si pronto si ciao si scusa il disturbo e sono teto no niente no siccome che sto facendo un nuovo video dove siccome che è uno speciale 5.000 iscritti e allora sto chiamando a tutti i miei iscritti per ringraziare scusa se ti disturbo magari stai lavorando a no sei in pausa perfetto voglio l'occasione è giusto per ringraziarti personalmente perché mi segui insomma per tutti spero per il like che che metti per i commenti che lasci mi fa molto piacere ti voglio ringraziare anche specialmente perché è un regalo che voi iscritti mi avete fatto e lo sto utilizzando in questo momento come non so come mi stai sentendo mi senti bene sì è un bel telefono l'ho puntato già d'anno scorso comunque non sto insomma a dirti un po tutti i miei cavoli lo spiegherò nel in questo video così e niente ti ringrazio tantissimo e grazie grazie ancora bene ragazzoli grazie grazie a tutti a tutti i miei iscritti speciale 5000 iscritti per questa cosa qui eccolo qui questo qui e grazie anche a voi perché perché diciamo mi sono fatto un regalino naturalmente con anche se sono piccoli guadagni che si fanno su youtube ma questo sicuramente grazie a tutti i miei iscritti per qualcuno potrebbe essere un piccolo traguardo per me è un grandissimo traguardo perché se vado a pensare quando ho iniziato a fare il primo video che poi lo feci per gioco quando ero in vacanza con le mie due figlie piccoline dove stavamo facendo vedere degli slide insomma delle cose così postai quel video non so neanche quante visualizzazioni feci e poi dal di lì insomma è incominciata un po tutta la mia storia io per chi non lo sapesse lo faccio più che altro per passatempo e divertimento do delle mie valutazioni in base alle mie esperienze di tutto quello che faccio per chi non mi seguisse magari vede questo 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 video la prima volta lo intanto iscriviti io recensisco gestori telefonici specialmente poi seguo anche il mondo delle criptovalute qualche guadagnino che si potrebbe fare online con varie piattaforme dove ci sono questi questi metodi di guadagno poi ho recensito varie carte di pagamento ce ne sono tantissime e poi ogni tanto ci sono anche qualche prodottino c'è qualche azienda che mi invia qualche prodotto non ho degli sponsor non sono sponsorizzati quindi è proprio farina del mio sacco io parlo di tutto quello che mi capita e allora prossimamente cosa vi capiterà visto che ho questo fantastico ho preso questo fantastico telefono naturalmente ho già se vedete qui ho già messo il vetrino di protezione questo qui e poi è una cover bianca come sapete a me piace il bianco addirittura e in questi giorni mi sono verniciato anche lo scooter di bianco era grigio perché quando l'ho presi ben undici anni fa vi lascio magari dove qui la foto il prima e poi il dopo perché quando l'ho presi bianco non c'era dove aspettare due mesi e per chi mi conosce insomma due mesi io le cose le voglio ieri quando l'avevo ordinato eravamo maggio così dove aspettare arrivava fino a fine luglio insomma dopo finiva anche l'estate me lo sarei goduto molto poco e poi un po tutto il resto la mia macchina uguale che è bianca ma voglio andare a vedere un po tutto quello che concerne questo telefono perché questa supporta le e sim supporta il 5g quindi magari col tempo vedremo se usciranno delle offerte buone sia in 5g le ho già guardate un po cosa c'è in giro ma qui di copertura vedo che c'è copertura del di fast web nella mia zona altro iliad purtroppo no però stiamo a vedere perché non è coperto né in teoria neanche questo telefono che è un z flip per chi non avesse capito e z flip 3 del samsung e poi altri insomma a parte i gestori fisici che hanno 5g ma hanno dei prezzi esagerati che vanno dai 15 euro in su anche no potrebbe fare anche a meno dipende sempre dalle esigenze come vi dico sempre quindi noi ci vediamo prossimamente e vi porterò un po di curiosità di questo telefono di certe funzioni che magari non vengono dette e poi naturalmente vi farò vedere vi farò notare le problematiche tra virgolette cosa bisogna fare quando bisogna trasferire da un samsung in questo caso diciamo da samsung a questo dall s9 a portarlo al z flip 3 tutto quello che ho fatto tutte le problematiche che ho avuto che ho risolto grazie a me alla fine il discorso sempre quello all'arrangiarsi è sempre la miglior cosa però insomma se si può avere un aiuto ben venga però noto che insomma determinate cose non le si conoscono quindi non le si sanno è logicamente anche gli operatori magari capitano delle cose che non sono mai successe quindi non sanno neanche loro dove mettere le mani e allora vi darò tutte le mie le mie dritte quello che poi specialmente con le carte carte di pagamento che so già che ci sono certe carte che hanno un po di problemi quando viene trasferito da un telefono un altro vedi buddy bank ma fate finta che non abbia detto niente invece altre carte che si sono risolte in semplicemente con delle cavolate che magari non ci si pensa e allora io vi aspetto nel prossimo video mi raccomando lasciate un like naturalmente se vi fa piacere di lasciarlo mi raccomando e noi ci vediamo prossimamente grazie di nuovo grazie 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 per 5 mila volte anzi anche qualche cosino in più perché ci sono già altri iscritti ancora tante grazie a tutti voi a tutti i miei iscritti di questo diciamo regalo che mi avete fatto il solito saluto e l'abbraccio veramente un grosso abbraccio a chi mi vuole bene ciao ciao da tetto ciao